Presidente, si ferma un attimo qua! Eh lo so, c'ho la voce grossa. Redditometro, guardi, io l'ho sospesa perché la voglio vedere meglio, nel senso che io penso che quello che noi dobbiamo fare sul tema specifico della vicenda dell'accertamento sintetico è una cosa è colpire i casi che sono oggettivamente intollerabili, cioè gente che gira col Ferrari e si dichiara nulla tenente. Altra cosa è correre il rischio di infilare nell'ordinamento un'altra norma che vessa il cittadino comune, sulla quale io sono contraria. Quindi, poi c'è anche chi nella maggioranza dice che bisogna proprio togliere l'accertamento sintetico. Io posso temere che togliendo l'accertamento sintetico sia difficile, diciamo così, andare a vedere quello col Ferrari. Dei casi che sono oggettivamente eclatanti, oggettivamente intollerabili. Però, secondo me ci vuole un attimo più di tempo per guardare nel merito la questione e per ragionare della norma migliore che sia da una parte, chiaramente a garanzia di una lotta all'evasione fiscale fatta sulla grande evasione, fatta sui casi che sono intollerabili, efficace, e dall'altra, diciamo, garantire il contribuente rispetto a una senza normativa che esiste oggi. Quello che noi stiamo facendo sul super bonus è una misura che per molti è impopolare. Però, oggettivamente, quando tu arrivi a un costo di bonus edilizi che viaggia intorno ai 220 miliardi di euro, che segnalo essere quanto prendiamo con l'intero PNRR, per ristrutturare meno del 4% del patrimonio immobiliare italiano, prevalentemente seconde case, e sono risorse che si tolgono agli stipendi, ai salari, alla sanità, alle scuole, alle pensioni e compagnia, a un certo punto una stretta la devi mettere, perché altrimenti rischi di andare fuori contro. Questo mi porta proprio a chiedere questo. Dovete fare cassa, non è un mistero. Avete bisogno di fare cassa. Un esempio, si parla da... Io non ho bisogno di fare cassa, mi scusi, sul super bonus. Io ho bisogno di limitare, diciamo, l'emorragia generata dal super bonus, perché chiaramente i nostri conti non la reggono. Ed è un'emorragia che, secondo me, oltretutto, non produce una di contro, diciamo, quello che aveva promesso. Non l'ha fatto a livello di prodotto interno lordo, non lo fa a livello di introiti. Noi abbiamo, solo sul super bonus, sui bonus edilizia, abbiamo 17 miliardi di euro di truffe. 17 miliardi sono l'intero valore prodotto da tutto il nostro settore del vino in un anno. Se n'è andato con le truffe. E voglio dire, io penso che le persone serie, anche dicono, oh, però io sono una persona seria, non mi assumo la responsabilità di mandare avanti una cosa del genere. Io propongo l'elezione diretta del capo del governo e l'abolizione dei senatori a vita. Il PD propone ostruzionismo contro l'elezione diretta del capo del governo e il raddoppio dei senatori a vita. Sono due modelli. Non è una riforma necessaria in Italia? E c'è un lato personale di questa risposta. Ora, io non sono il tipo di persona che, diciamo, riesce a ripagare con la vanità le sue rinunce, no? Le rinunce che deve fare per fare questo lavoro, non so, per ricoprire questo incarico. Attualmente la mia vita più o meno si svolge così. Io mi alzo la mattina, cerco di risolvere problemi e quando riesco vado a dormire. Non c'è altro che non sia il poco tempo che riesco a passare con mia figlia, mediamente, diciamo, un'ora al giorno tra la mattina e la sera. Cioè, qualcuno pensa veramente che io potrei fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo? Molti lo farebbero. Sì, molti lo farebbero e io non li capisco sinceramente. Ci sono dei vantaggi nell'avere potere. Ma per me quello non vale la pena. Per me vale la pena di fare questa vita se quando hai finito ti puoi guardare alle spalle, puoi guardare l'Italia e puoi dire ne valeva la pena. Quindi, la mia risposta a questa domanda è o la va o la spacca. Ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico. Il problema della sinistra in Italia è che ritiene di avere più diritti degli altri. Quel mondo è finito! 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 Finito!